Tiene ancora a banco a Brindisi la questione relativa alle dimissioni a sorpresa del presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, il noto attore Luca Ward, vicenda dai contorni ancora poco chiari. Intanto nel capologo adriatico è stata lanciata una petizione per sostenere il ritorno del maestro Stefano Miceli, nativo di Brindisi ma da tempo impegnato su palcoscenici degli Stati Uniti, alla guida della Fondazione e della Direzione dell'Orchestra che lui stesso aveva costituito. Il suo contributo è stato fondamentale per la crescita culturale della città, si legge nella descrizione della petizione, offrendo un'opportunità privilegiata di riscatto culturale. Durante il suo mandato la Fondazione, continua ancora il testo, ha visto un aumento significativo nella partecipazione alla vita culturale della comunità. Al momento la petizione, lanciata il 5 marzo scorso, che si pone l'obiettivo di 500 firme ne conta poco più di 200, con commenti positivi da parte di utenti. World è stato nominato presidente lo scorso ottobre dal sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, compiendo una scelta altisonante rispetto al passato, individuando un profilo di spessore e di caratura internazionale, grazie al quale magari poter attirare sponsor o altri finanziamenti. Ma ciò non è avvenuto. In cinque mesi World non ha mai messo piede nel capoluogo adriatico e, cosa ben più grave, non ha mai individuato alcuna iniziativa che potesse far fare un salto di qualità al Teatro Verdi e quindi alla città. La vicenda legata alle sue dimissioni si è immediatamente tinte di giallo. Le motivazioni sono ancora ignote, ma qualcuno ipotizza che siano derivate dalla mancata assunzione del proprio manager. Non solo, anche e forse soprattutto, le condizioni economiche della fondazione avrebbero influito negativamente. Il Teatro Verdi, infatti, può contare esclusivamente sul finanziamento del comune di 150.000 euro e sugli incassi dei biglietti e degli abbonamenti. Davvero poco se si intende allestire una programmazione culturale degna di nota, nonostante i salti mortali del direttore artistico Carmelo Grassi e dei propri collaboratori. Adesso è quanto mai opportuno che si scelga una figura capace di guidare, a titolo gratuito, la fondazione Nuovo Teatro Verdi, senza condizionamenti da parte della politica locale, perché la cultura non ha colori e né bandiera.